La cosa che posso dire è un grande grazie, grazie prima di tutto a Francesca che è inarrestabile e che filma tutto e che diventerà i suoi girati saranno la memoria storica del design perché lei va dappertutto l'incontro dovunque, riprende tutti, ha recuperato questo filmato vecchio però non contenta di questo, ha continuato a incrementarlo, abbiamo trovato delle foto vecchie d'archivio per me sarà una sorpresa perché non so che cosa abbia fatto, so che fino a ieri mi chiedeva di riconoscere delle persone in delle foto, quindi vuol dire che sta meditando, che ha fatto delle cose che vedrò e sarà una sorpresa e poi in generale trovo che Design Film Festival, io sono un'affezionata, l'anno scorso l'ho seguito e mi è piaciuto moltissimo e quest'anno immagino che sarà ancora più bello ieri sera c'è stato l'apertura e sono rimasta entusiasta dei film veramente belli, la trovo un'iniziativa fantastica che fa onore a Milano perché Milano è la capitale del design e questo è perfetto per celebrare, per raccontare il design e renderlo accessibile al grande pubblico, io spero che venga molta gente perché vedere questi film veramente insegna a amare il progetto, l'architettura, i protagonisti e il design, quindi è un'opera meritoria anche proprio così pensando la rivolta verso il futuro e verso le porte che apre alla conoscenza. Grazie 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 a tutti